Si chiama Segnala l'Incivile, la nuova iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all'abbandono dei rifiuti voluta dall'amministrazione di Montesilvano in collaborazione con Formula Ambiente e SAPI. Il cittadino, attraverso WhatsApp, potrà segnalare l'Incivile nell'atto di abbandonare i rifiuti, indicando il luogo per mezzo del servizio di geolocalizzazione collegato alla app al numero 345 59 38 295. La segnalazione verrà raccolta da Formula Ambiente e SAPI che provvederanno poi a ripulire l'area e a inoltrare la comunicazione alla polizia locale per eseguire tutti gli accertamenti necessari. Dopo la campagna abbandona le cattive abitudini con grandi manifesti per tutta la città e l'inaugurazione dell'isola ecologica attiva 24 ore su 24 in via Aldomoro, oltre al centro di raccolta di Via In, ora è attivo anche questo strumento digitale alla portata di tutti coloro che possiedono uno smartphone. Abbiamo superato il 32% di raccolta differenziata e stiamo molto attivi per migliorare il decoro del territorio comunale. Quest'estate abbiamo collaborato mettendo sull'isola pedonale che sarà aperta in via Moro un velocipede per lo spazzamento manuale anche nelle ore notturne. Abbiamo aperto un centro di raccolta, funziona sempre l'isola ecologica in via Austria dove il cittadino può conferire in maniera differenziata i rifiuti e adesso siamo qui a proporre un nuovo servizio. Per il futuro c'è un nuovo centro di raccolta che il Comune ha già individuato come area sua a Montsilvano Colle e confidiamo che nei primi mesi dell'anno possa essere inaugurato. Dopo stiamo studiando anche un diestente della raccolta porta a porta lungo la via Vestina, dal confine con Cappelle sul Tavo fino all'incrocio con via Togliatti.